Signori, benvenuti, benvenuti, benvenuti Allora ragazzi, oggi sono qui per dirvi di come non fare un compito Visto che tanto tutti... Posso iniziare come iniziano gli youtuber famosi? Sì Io questo video non lo volevo fare Esatto, nessuno voleva farlo, però visto che tutti vi consiglio cosa comprare Oggi vi diciamo cosa non comprare Perché penso che nessuno voglia comprare una roba del genere Spero che nessuno l'abbia mai fatto Quindi ragazzi, buon salve a tutti E benvenuti in questo video dove vi diciamo cosa non comprare Perché questo è il pc peggiore del 2022 Prima di iniziare ragazzi, vi ricordo di iscrivervi... Mannaggia Ok? Tutto a posto, tutto a posto Ragazzi prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella di notifiche, iscrivervi tutti i social che vi lascio qui sotto in descrizione E vi iscrivervi al canale di questi due tizi Ciao Tutto lui Perché lui è un vento Io faccio schifo Hanno maltrattato questo vento, gli hanno gratinato il... Gratinato, oddio vero Gli hanno trasformato in granita l'aperol Praticamente quindi è stata una violenza Allora ragazzi, il pc che è molto semplice da fare Perché in realtà il pc, fare il pc del mondo è stato proprio semplicissimo Che culo L'ho pensato in una notte Allora, che processore abbiamo signor Sud? Il Ryzen 5 5005 Allora, il processore che deriva dall'architettura del 5600 Perché ovviamente è un 5600G senza la G praticamente Con frequenze abbassate E il fatto che non c'è la G, salutiamo il punto di G Ciao Ciao È un processore 6 con 12 thread Con frequenze di maturazione 4.2, 4.3 Vabbè, non elevatissime Esatto, una cache comunque da 8 MB È la problematica principale Sono la cache da 8 MB Il fatto che sia sulla stessa architettura del 5600G Esatto O comunque diciamo l'architettura Cezanne Che è diversa da quelle degli altri processori AMD È un architettore diciamo un po' meno potente E poi soprattutto il fatto che comunque non c'è il PCIe 4.0 È solo 3.0 E questa cosa poi sarà una discriminante Per quanto riguarda poi la scelta di un altro componente Esatto Che non voglio andare a spoilerare Non possiamo dirlo All'inizio era molto più inacquistabile Esatto Sì 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 Il pezzo era molto più alto Non ricordi la lancia? Era c'era 250 mi sembra No, la macchina era tipo 180 180 A un certo punto Cioè all'inizio stavano tipo 5 ore di differenza Tra lui e il 12400G Esatto Quindi non era poco E anche perché tenete conto che in single thread E anche quasi anche in hyper trading Più o meno Il 12100 praticamente non era così tanto lontano E costando molto meno praticamente Sì Diciamo che ancora adesso ti trovo in una posizione scomoda Perché comunque cioè Se lo acquisti per giocare Il 12100 costa 10 euro in più Va meglio Il 5600 costa 25 euro in più Va meglio Se poi vuoi spendere ancora meno Il 4500 costa 30 euro di meno E non è che farà così male Esatto Per questo oggi non abbiamo preso il 4500 invece del 5500 Perché oggi il 4500 A meno di 90 euro Se deciderete che cosa gli possiamo dire No, costa talmente poco che è buono Cioè effettivamente Cioè è talmente poco che va benissimo La scheda madre ragazzi In questa cosa Siccome tanto tutti Sappiamo che sulle M4 Possiamo mettere qualsiasi tipo di processore Sì Compreso il 5950X o il 5800X 3D Mi raccomando mettiamole sulle schede madri Con una fase sola Così per Così anche se È una fase cinese Possiamo anche O giapponese O temonese Possiamo metterla E non prende fuoco Perché è temonese Sono giapponese Sono giapponese Sono giapponese Esatto Ovvero una qualsiasi A520 Sì Una qualsiasi A520 Voi mettete in corpo A meno che non la pagate 10 euro Che era 10 euro Che effettivamente non ci compri Penso neanche la scatola Della scheda madre No Qualsiasi A520 Non dovete comprare Quindi qualsiasi A520 Asrock Anche Strix Perché mi sa che Aveva un cappato Un A520 Strix Io lo giuro Avevo visto una volta Qualche immagine Però non mi ricordo Se era un A520 Un A320 Non lo so Però se esisterà A520 Strix Ragazzi La mandiamo a Biagio Esatto La mandiamo a Biagio Ciao Un saluto a Ciccio Nagatomo Ciao Ciccio Esiste? No No? Allora è errore mio Penso La faremo E la Prime Vabbè la Prime Vabbè la Prime Penso che sì Comunque Comunque A livello proprio di VRM E dissipazione VRM È inesistente Cioè praticamente Pertate lì Contate pure anche Le fasi che ci sono Senza neanche Dovervi dare E poi dopo No dicono Che le A7 Le A770 Sono troppo Overkill Ma Ma Su le A520 Mettiamo il 52 5X in PBO 1.4 Eppure non prende fuoco Va bene così Quindi comunque Anche quella Non va bene La scheda madre Comunque I soliti Sono tutte Micro ATX Quindi nel senso Potete metterle Poi dove vi pare Ecco Dove vi pare Mettetele Dove vi pare Esatto Mettetele dove vi pare A volte addirittura Qualcuno Non è neanche Lo slot M2 Però più le A320 In questo caso Eh ma nemmeno Lo slot M2 Quello spesso lo trovi Si 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 trovi anche quello Le RAM Ragazzi Le RAM Voi parlate delle RAM Visto che ti sei esperto Allora Le RAM Ovviamente Allora Io non ci farei un server Su questo PC Ok No Strano Se non ci farei un server Allora Come RAM Ovviamente Verdi Cioè perché Deve essere Verde un bel colore Verde rispetto alla natura Quindi anche ecologica Una bellissima Crucial Da 16 giga 3200 Ram dell'Inps Se volete Ci sono ancora Le meglio Che sono le 2133 Se le trovate Esatto Perché andando a 3002 Sulla A520 Non credo che vanno Ah beh 3002 CL22 Mettiamo anche in conto Ma non credo che comunque 3002 vadano Sulla Singolo banco Sottolineiamo singolo banco Perché siccome Crucial Effettivamente è un buon brand Comunque ha delle buone memorie Però ovviamente Come ricordiamo Il brand Non tutto è buono Oppure si sono Che c'ha delle cose non buone Esatto Quindi questo si Il banco Per far lavorare In maniera Prendiamo un banco Solo perché Le A520 C'hanno due slot Se li occupi Già tutte e due Esatto Vuoi fare upgrade Vuoi passare 32 giga Che fai dopo Quindi metti Un banco da 16 Poi in futuro Ci metti un altro Banco da 16 Un A520 Con 32 giga di ram E un 5.5 E tanto legge Fino a 64 giga di ram Che bello Isilon Musk Isilon Musk Esatto Esatto Quindi come Come ram Infatti questo è un kit ottimo Perché appunto Poi sappiamo Che il single channel È un kit Comunque È un kit Con un banco Banco singolo Un kit Con un banco singolo È un banco Non può essere un kit Un kit è un gruppo Cioè un kit È un kit È un kit È un kit È tante cose insieme È quello Vabbè Comunque sono tanti componenti Della ram Un kit singolo Un kit singolo Un kit singolo Esatto È perfetta per far lavorare bene Il processore Perché sappiamo Che il single channel Il processore lavora ancora meglio Perché scusami no Perché devi dividere il lavoro Su due canali Quando invece poi Questa tutta la potenza Su un unico punto Perché il processore Se ha una ram solo Si affeziona a quella Se ne ha due Deve scegliere tra una e una Esatto Dopo ci metti più tempo La latenza aumenta La latenza Dopo non lavora bene Perché fai il pinguino Forse è meglio dire Che siamo dicendo Ora 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 io e te andiamo fuori fuoco Perché lui si avvicina troppo E non andiamo fuori fuoco Ora giochiamo a chiapparella Però non posso dire L'altra cosa Se no dopo Mi abbandono il canale Ma porca miseria Aiutatemi Sì Ok passiamo adesso invece Al case Il case è una cosa Che ho avuto tra le mie mani E purtroppo Ancora oggi in vendita Ah beh L'ho trovato di sera In vendita E a 85 euro Mi sembra stava Quindi tutto lo pagava 30 euro in più Quello che l'ho pagato io Praticamente Ovvero il Cooler Master Masterbox Light 5 Ma scusa Non ci sta Non ci sta un bel combinato Che sia alimentatore 40 euro Non era meglio Ah anche Ma l'inizatore però Volevo prendere qualcosa di diverso Avete due scelte Ovviamente il Masterbox Light 5 Non vi prendete Il Masterbox Light 5 Oppure vedete la combinazione Appunto come ci ha detto Il nostro Saddi Perché l'inizatore Ho scelto un altro Un'inizatore molto bello Che hai scelto Una cosa che tu hai avuto E hai anche testato Il Piccicase Il Piccicase Il Piccicase Il Piccicase Il fuente di alimentazione La fuente di alimentazione È circa 19 15 euro 500 watt Che effettivamente Per la combinazione totale In realtà 500 watt Manco Allora Diciamo 500 watt Sono quelli Che l'alimentatore Consuma Erogandotene però 150 Esatto Io capisco Come vanno gli alimentatori No non guardano I watt Che eroga Ti dicono I watt Che consuma Consuma la presa Esatto Consuma la presa Esatto Però anche lì Anche lì Però torna poco Perché a volte Arriva a consumare Anche 3 kilowatt Come mai Eh perché Poi Quindi dovrei Servere quello da 50 Insomma 10 kilowatt Esatto Esatto Dovrebbe consumare 10 kilowatt Comunque sì Alla fine Se mettiamo conto PC case 500 watt I cavi sono abbastanza lunghi Per arrivare ovunque Soprattutto per farvi la vostra No non posso dire niente Perché se no Mi viene qualcosa di brutto Esatto Lunghi per questo motivo Esatto Lunghi per un motivo Molto diciamo così Vecchio stampo Io mi desinco Signori di tu Ah no Sbagliato Poi soprattutto è grigio Quindi È grigio È grigio È grigio È grigio Con tanto diventatore dentro Quindi Nella maggior parte dei casi È un editore a carico alto Troverete anche L'utilissimo vano Se non già mai Preinstallato Per Masterizzatore Per Il masterizzatore Ragazzi È tornato ad essere Un must have Perché ragazzi Ormai le chiavette USB Spotify Micro SD Ma che cosa Noi vogliamo mettere Masterizzare Il nostro cd Dice O ti metto il case Con le rucette O il masterizzatore Cioè capito Propone pure la scelta Propone pure la scelta Cioè il masterizzatore Ragazzi È il must have L'envue me No Io ho detto un SSD Perché mi piace molto Soprattutto il nome È sbagliato Non mettiamo l'envue me Mettiamo l'envue me Signori Io oggi vi propongo Una bellissima combo Ovvero Prendete un vostro Un qualsiasi SSD A 120 giga Pagate 20 euro Un PNI Un Patriot Quello che vi pare No Il King No cos'era Il Fisch No No camoscio No Il camoscio No Prendete anche quello Il Sambao Il Sambao Sì L'ho scelto io L'SSD Il Somnambulist Il Somnambulist Ok Prendete anche il Somnambulist Prendete quello Però è poco Perché non ci sono Nel giochi Il sistema operativo O il sistema operativo E i giochi Prendete quello Comprate poi Un qualsiasi hard disk meccanico Da un terabyte Pagate altri 20 euro Barra coda 320 gigabyte Ma anche Sì Qualsiasi hard disk meccanico Prendete tutto insieme E poi Quando state installare il sistema operativo Una volta che state installate il sistema operativo Sul hard disk meccanico Installate AMD Stormy Così praticamente avete Un Sshd ibrido Che vi permette di essere veloci Come un Sshd Ma perché la 520 hanno lo Stormy? Tutte le scende madri Basta di essere ride Ma pure la 520 Purtroppo si Purtroppo si Aiutatemi Sì sì mettete le AMD Stormy Così avete sia un hard disk veloce Che capiente E avete Troppo Ma che verifica Degli NVMe Anche lì Sono troppo Sovravalutati O overkill Ma anche perché Sono la 520 L'NVMe dove lo mettono? E c'è Uno slot forse c'è Oppure fai come qualcuno Che è matto Compra gli adattatori Quelli per la RAM Per la NVMe Sì Vabbè piaccia come L'adattatore NVMe Per la 520 Vabbè sì Per chiudere il tutto Signori Il pezzo forte Siccome Il 5005 Non ha appunto La grafica integrata Abilitata Dobbiamo appoggiarci A una scheda video Pensavamo alla 710 Ma la 710 è troppo mainstream Perché è troppo Poi costa poco Alla fine Comunque alla fine Su Chex Webuy Con 28 Porta a casa Una GT6 10 Quindi Costa poco Effettivamente Quindi la paghi poco Va per 20 euro Non ti puoi neanche lamentare Però oggi Noi presentiamo Questo Ne parla il minor Io non ne voglio sapere niente Io non dirò una parola Io non dirò niente Non ne abbiamo una Di scelte Ma ne abbiamo due Ragazzi Io a bordo Signori Ovvero La serie A bordo E 6500 Allora Anzi rido Dalle No sbagliato Allora Se siete coraggiosi Poi entra il 6500 Perché consuma di più E vi abita di più Se siete invece amanti Del rifame energetico Prendete la 6004 Allora Stanno facendo una cosa Questa è la 6005 Questa è la 6004 È più grosso la 6004 Che la 6005 Dovevi scaldare meno La 6004 è più grande Della 6005 Questa qua veramente Cioè Togliete il dissipatore La soffiate E la raffreddate Poi Guarda il dissipatore Allora Io non dirò niente Cioè questo è il dissipatore Che perlomeno Ci prova a essere un dissipatore Ma questo è proprio Cioè Quello è il classico Dissipatore Sì Attaccato a caso Sì esatto Questo è proprio appiccicato Con lo spuso E col fil di ferro Praticamente Allora Queste schede video Non ve le so neanche Di voi che caspita Sono le schede video Più economiche Che trovate adesso Sul mercato del nuovo Ma Io potrei suggerirmi Un'altra Quale? Perché questa Costa pure un botto di soldi Capi? Esatto Secondo me questa è peggio Allora No 1300 Cioè la scatola è 1300 Ma in realtà Ci sono delle RAM Ma che ca... Ma che ca... Che nuove si è fottuto la scheda Cambio di programma La ricerca ci offre Tre schede video ragazzi Tre schede video A fare Allora Tieni Presentala Che cazzo è Ah è la Questa qua è la Bellissima 1630 No non mi pagano abbastanza Per tenere in mano ste cose Ma Guarda che roba Non l'avevi ancora vista Cioè questa è No no l'ho vista No ma io ho la 1500 Ti È più grande di questa Esatto Questa ragazzi è la GTX X1630 Che è di GTX Penso c'è solo il nome Però il resto Praticamente è una GT Perché è più simile a una GT Più che simile a una GTX Cioè questa è Questa Questa è Questa allora Diciamo che È una scheda che è perfetta Per il gamer Che vuole provare Le brezze dell'FSR Su Nvidia Perché appunto Sapete che il DLSS qui Non è attivo Perché purtroppo Nvidia È Con i poteri forti Quindi purtroppo Eh ma il gamer pure Vuole spendere un sacco di soldi Esatto Questa sta a 200 euro Quanto sta? Non ha il connettore Ha tante porte Ah beh c'è la DVI No sono troppe Sono troppe Oh il DVI È il DVI Troppe Che ci fai sono troppe Inutile Il display port Basta una porta E via Questa si La pagate di quanto È 200 euro 200 euro È una migliore scheda Poi in vita Ragazzi Ti avete visto Che potete Ci fate I frame rate Di quegli Di zoom È meglio È piccola Quindi potete mettere Questo tipo di case È meglio Tasto 5 e tasto 6 Esatto Il tipo 2 Come vedete dalla forma esterna Vi faccio vedere una bella zoomata Ricorda molto quello che è presente negli stock Ryzen O negli stock Intel A parte la Ryzen perché è vero Perché AMD fa tutti i chip Esatto è vero AMD fa tutti i DAI Quindi nel senso Questo è Horizon Questo è Horizon È Horizon Questa è una scheda di video AMD Quindi avrà qualche problema driver Però Nel senso Costa un po' meno E ha Sempre 4 giga di moda GTD L6 È un po' più grossa Quindi Però Non hai il DVI È solo due porte Però è meglio È ma il DVI Sai quante persone Usano ancora il DVI Ma che Io o no Nia che Ma basta Abbassare Abbassare HDMI 1.0 E vai Ultima scheda video ragazzi La 6500 XT Quindi ragazzi Questa è la La configurazione a tre schede video Esatto Sì sì Se potete Potete fare anche crossfire È vero Esatto Se potete Potete fare anche crossfire Di 6400 e 6500 Oppure Anche la 1060 Per una cosa E la 6500 Per l'altra Quindi ragazzi Potete fare quello che vi pare Perché tanto Le A520 hanno due slot PCI Ma non è vero Non lo fai Il crossfire Sulla A520 Si può fare Si può fare Dopo aver detto Mucchi di stronzate E aver fatto Mettere in crisi Un uomo Praticamente Nel suo Cordoglio Eh Che ho fatto Che ho fatto Ragazzi Io spero che Questo video Non vi sia piaciuto Perché non dovete Comprare questa cosa Mi raccomando Vi ricordo ancora Iscrivetevi al canale Trovate tutti i link Qua sull'iscrizione 3% di Amazon Esatto Esatto Io comunque Ve li metto sotto In componenti Pagateci Esatto Cioè nel senso Quindi È bello che non ho ancora mai Rifato niente Quindi nel senso Va bene Comincia Tranquillo Te li rifo io Esatto Ho fatto male No 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 Ha vettato Quella è fatta I cazzi E dai Questo video Ragazzi Commentate Condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao